se non posso farlo perché tu puoi partire pochino mi piace pochino mi piace ma a parte gli scherzi benvenuti a questo nuovo video benvenuti a questo nuovo video oggi ragazzi siamo qui in un nuovo video di brux ragazzi dobbiamo scartare gli eventi e vediamo un po' che cosa c'è un po' la sopravvivenza che sembra sussurro alla fine quella è chi si sta eeeh quanta gente video ehm mica po' se che io faccio stare che tu molti di voi mi scrivevano che il volume era troppo alto avete capito? molti di voi mi scrivevano che il volume era sul quadro ora non vi preoccupate perchè lo abbastiamo ci saranno con me per il prossimo video questo video è troppo un'utilizzo perchè lo stavo fatto che tengo pure come solleria di cellulare perchè mi piace dato che mi piace la canto anche l'altro è bello che quando mi chiamano parte o la solleria bellissima e poi non vi preoccupate e pasta ragazzi a parte gli scherzi andiamo a giocare cercherò di fare un muscolo un cozzo un cozzo un cozzo ok madonna quanto odio questo genere vieni se hai le palle eccola 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 la so ma ti puoi amare te ne vi ho ciao raccomandata ah ma il gioco che che perciò se non posso se non posso se non posso se non posso non posso se non posso stai perché tu vuoi partire perché io piace dobbiamo stare concentrati e attenti e nessuna distrazione ci deve prendere eccoli sono quattro non ci scassate un po' non posso dirtelo sinceramente no vabbè sono due controlli schifo vai andate a combattere voi guarda sta puttata che mi vuoi seguire ah vai andate andate in real non posso stai perché tu vuoi partire perché io vi aiuto allora guarda no la connessione guarda sto figlio di grande buc grande buc mamma santa sto da questo ascolto e vado diciamo che sei il mondo dite il mio ser maru scuola ma non c'è ma non è la lì ragazzi siamo insieme a bar mario ragazzi bario ragazzi siamo accompagnati in bario perchè sto facendo semplicemente ragazzi eccomi qua siamo con bario presentati bario i don't come in peace vabbè lo so che già ti conosco non ti so per far capire che ci sei capi così no no e come se non sto giocando ragazzi guardate che ho trovato guardate che ho trovato guardate che ho trovato no aspetta mario però guardate che ho trovato guardate che cosa ho trovato scuola no no come ho trovato via no si no si vada come l'ho preso bellissima oddio no sei due bella lì kill cazzo bellissima kill se lo riesco a trovare e vabbè se sto scappando secondo me l'amico torna in vita è sceso ha sceso ha sconto una kill che ha vinto lo so ho visto guarda quello correvolo l'ho più oh no no bella ma che ho fatto mia donna è un tipo no raga aiutalo ho sentito che senta bella 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 ha ucciso uno ma l'ho ucciso l'altro il problema è che mi infatti non è un problema ma che ho preso come fare non lo prende no bella lì no 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 come ho preso quel razzo oh noo ragazzo no bene non lo vanno niente e ti faccio le per tutte ma sono i punti e mi diciamo come vinca facciamodi si dai voi vedere come giochi così adesso tu avvia la partita io ti guardo perchè voglio vedere come gioca ragazzi sono curioso e osserviamo a Mario ragazzi che gioca tra l'altro bellissimo tra l'altro io ho webcam cosa voglio dire però adesso io ti guardo perchè non riesco a vedere eccoci qua Mario 427 mi sto guardando oddio stai la cattola madonna mario ma tu così giochi ma l'ho anche molto ma che Mario ma non puoi giocare così cioè veramente l'ho anche domani ma oh il mondo l'ho anche ma hai capito che stai laggando ma hai capito che stai laggando? ma l'ho capito sei mio ma tu stai laggando sembra solo te prendo me stai laggando solo ma io vedo che tu stai laggando molto ma riesco a vedere quello che fai a scatti cammini ragazzi osserviamo il mario che ci vince la partita bella lì bella la bella la bella la o di esserci ok vado alla chi ti vedi infatti porca era già arrivato proprio davanti oddio cambia cambia oh mio dio ok ma so io che laggo e poi si bella lì bella lì bella lì no nooo cavolo vabbè perché l'ho anche 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 l'ho ancora però però entra sei davanti in battaglia no è l'ultima cosa che fai però vabbè 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 ok ragazzi osserviamo a vario osservavo osservare ok vabbè 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 as solare come la pop l'ho anche l'ho o iscrivati london t guardare il fuoco sotto music ok ok product st un po' il cavo entrato si sta già distruggendo bella lì Mario te lo fai pelle questo questo te lo fai dai pelle eeeh eeeh e questo eh cazzo allora questo qui è uno che c'ha 3 di energia Mario Mario no Mario Mario puoi vincere Mario Mario no ragazzi ce la puoi fare ragazzi ce la puoi fare ragazzi ce la puoi fare ragazzi vai ragazzi vai la bella 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 lì vittoria ragazzi guardiamo il Mario che gioca guardiamo il Mario che gioca ragazzi insieme a voi oddio Mario l'avevo laserata oddio Mario l'avevo laserata vabbè però lei ha vincisi a tutti quindi voglio dire che siamo un po' pigli all'allergia ah vuoi aspettare che spawno grazie è molto aggiantivo no guarda si chiude vai per di mi lascia più un po' di energia no dai si ho più di ah non credo che abbia zero di energia che fail ragazzi è bellissimo giocare col Mario tra l'altro appena di via 10 minuti ragazzi ci vediamo nel prossimo video ci vediamo